è così è così perché d'altronde è un software open source quindi l'hai voluto gratis è molto pedale però ogni tanto non vuole non lo sapevo questa feature che ogni tanto lui non vuole che registri it's not a bug it's a feature ad apple l'avrebbero venduta così senti sei emozionato? sono molto emozionato lo testimonia il raffreddore formato famiglia che mi è venuto stamattina e l'emozion dimmi dimmi qualcosa di emozionato in veneto no allora porca non lo so bene il veneto nonostante sia puro sangue sei un finto veneto mi sono sempre rifiutato di impararlo perché era la lingua con cui mi sgridava mio papà e quindi hai dei traumi infantili bravo hai dei traumi vabbè vabbè senti emozion sei pronto? sono pronto sei pronto? sono pronto mi raccomando guarda che qua ci giochiamo il tutto per tutto SIGLA! Benvenuti amici! Da da, su, soc, tud, ugg, baff, sbam! Non potevamo scegliere una sigla più boomer per il nostro centesimo episodio Cioè nessuno dei nostri ascoltatori ha la più vaga idea di che cosa fosse Guybrush Ma dai non ci credo, non è famosissimo Ma sì, è così! Ma sai che, scusami, però è troppo vecchio anche per noi Cioè era di anni 60 sta roba qui Sì, ma del resto a noi piace così, noi siamo futuristici e vintage allo stesso momento Sì, anche perché poi dopo tutti ricorderanno sicuramente la più famosa versione Bat Roberto e Bat Carlotta, quella su bim bum bam Certo, è così è boomer totale Senti, Guybrush, 100 episodi del Bitcoin Italia Podcast 100 e non sentirli 100 e non sentirli Secondo te siamo più invecchiati o cresciuti? Io mi sento come Obama otto anni dopo la presidenza Come Obama, quindi coi capelli bianchi? Esatto, tutto triste Sai che lui parte con Yes we can, yes we can Poi dopo otto anni lo vedi tutto con i capelli bianchi sciupato Mamma mia, mamma mia, amici 100 episodi del Bitcoin Italia Podcast Il primo podcast che parla di Bitcoin e criptovalute in lingua italiana Questa è la puntata numero 42 della seconda stigione del Bitcoin Italia Podcast Ma rimarrà negli annali come la puntata Decento 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 Cento puntate, cento ore, cento settimane Cento e passa ore in realtà Cento disclaimer ripetuti Esatto, è così, è così Passate in un attimo Ovviamente ragazzi inutile che vi dica quanto siamo felici Di stare celebrando È un giro di boa È un giro di boa E vogliamo ringraziarvi tutti in apertura di puntata Perché siamo riusciti a realizzare 100 episodi Solo ed esclusivamente perché in tantissimi ci avete seguito Ci avete spronato a fare sempre di più e fare sempre di meglio E quindi vi ringraziamo tutti Grazie davvero di cuore a tutti coloro che ascoltano il Bitcoin Italia Podcast E una menzione ancora più speciale Guybrush la dobbiamo a coloro che oltre ad ascoltare il Bitcoin Italia Podcast Lo supportano anche con delle donazioni Sono le vostre donazioni quelle che ci consentono perlomeno di provare a coprire le spese che stiamo sostenendo Ma soprattutto ragazzi voglio che sia chiaro Sono le vostre donazioni coloro Quella cosa che ci rende indipendenti Io e Guybrush abbiamo già raccontato tante volte questi microfoni Capita anche quest'anno Guybrush Ci avviciniamo alla conclusione della seconda stagione oltretutto Mancano un paio di episodi Abbiamo ricevuto tante richieste da parte di aziende che fanno DeFi Che offrono investimenti Exchange un po' minori Che ci hanno chiesto di fare pubblicità sul nostro podcast E noi abbiamo sempre rifiutato Perché voi lo sapete Non parliamo di prezzo E soprattutto vogliamo rimanere indipendenti E sono le vostre donazioni che ci consentono di fare ciò Abbiamo anche deciso di non passare pubblicità Come si potrebbe fare su Spreaker Perché io li detesto i podcast Sì anch'io la odio pubblicità Esatto E quindi ragazzi è giusto che voi sappiate Che coloro che ci sostengono Ci consentono di rimanere senza pubblicità E soprattutto indipendenti nelle nostre opinioni E quindi siete voi che fate il Bitcoin Italia Podcast Perché il Bitcoin Italia Podcast Con pubblicità e senza libertà Non sarebbe il Bitcoin Italia Podcast No Guybrush? Eh sì Tra l'altro io ho scoperto una cosa sgradevole Che è che noi continuiamo a dire No non scriveteci cari Exchange Che non vogliamo mettere i vostri annunci I vostri sponsorizzati Ma tanto non ascoltano il podcast Questi che ci scrivono i vari recruiter Qui continuano a scriverci lo stesso Esatto Bisogna o rispondergli Ma non c'ho voglia neanche di rispondergli Allora basta sentite E va bene E va bene E va bene E va bene ragazzi A questo proposito Vi vogliamo parlare Di una straordinaria iniziativa Che abbiamo pensato di mettere in pista Io e Guybrush ragazzi Questa è una notizia bomba Perché 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 Abbiamo deciso di mettere in pallio per Natale Un episodio speciale del Bitcoin Italia Podcast Giusto? Allora Mi spiego meglio Voi non vi preoccupate Perché ci saranno regolarmente I due episodi extra Della Christmas Edition Del Bitcoin Italia Podcast Ma quest'anno Faremo anche di più Realizzeremo un episodio speciale Quello che noi abbiamo chiamato Episodio VIP Del Bitcoin Italia Podcast Non vi vogliamo dare anticipazioni Vi dico soltanto una cosa Amici Parleremo di ciò Di cui Non parliamo mai Tipo Gli ultimi articoli di Novella 2000 Esatto Esatto Parleremo di cose di cui Non abbiamo mai parlato Depilazione definitiva Esatto E quindi sarà un episodio speciale E che Sarà un episodio che Non verrà pubblicato Su Spreaker E sui podcast player Come Spotify Come Apple Podcast O come Google Podcast Ma Sarà Dato Sarà mandato Via email Il giorno di Natale Quindi ci troverete Sotto l'albero Con questa edizione speciale Natalizia Del Bitcoin Italia Podcast Riceverete un'email Con un link Per scaricarla Come si fa A ricevere La puntata speciale Del Bitcoin Italia Podcast Ebbene Da oggi Fino al 25 di dicembre Tutti coloro Che Tra di voi Decideranno di fare Una donazione Al Bitcoin Italia Podcast Per mantenerlo Indipendente E privo di pubblicità Si ricordino Di mandarci Anche una mail Perché Sarà per loro La puntata speciale Di Natale Del Bitcoin Italia Podcast Tutti coloro Che ci faranno Una donazione La scegliete voi La cifra da donare Questa è una cosa Che davvero Non ci interessa Mi raccomando Soprattutto coloro Che decideranno Di farci Magari Una bella donazione In blockchain Ricordate poi Di mandarci Una mail Col numero Della transazione Perché Altrimenti Restate anonimi E noi Non potremo Recapitarvi Il 25 mattina L'episodio VIP Del Bitcoin Italia Podcast Episodio magico Segreto Di Babbo Natale Esatto Fatevi un regalo Speciale A Natale Regalate a voi Ai vostri familiari L'episodio VIP Del Bitcoin Italia Podcast Così facendo Avrete un regalo Bellissimo E sosterrete Il nostro show È un win-win Guybrush Assolutamente Sì Poi finalmente Possiamo parlare Di tutti quegli argomenti Come dicevi tu Di cui non possiamo Non parliamo mai Ragazzi Diremo robe Che ci siamo sempre Rifiutati Caticoricamente Di dire Quindi Mi raccomando Partecipate tutti A questa grande Christmas bonanza O ad ogni Per ogni donazione Riceverete Un episodio speciale Del Bitcoin Italia Podcast Solo per voi Sotto l'albero Di Natale Dunque Guybrush Iniziamo La puntata Decento Non può che avere Degli argomenti Della Madonna Ah sì Abbiamo Truffe Madonna ragazzi Di tutti Come Guerra dei miners Bistecche al sangue Oggi vi spacchiamo Ragazzi Allora Guybrush Cominciamo A lordarci Le mani Con una vicenda Putrida Allora Sì È successo Un pasticcio È bruttina Mi sono sentito Di segnalarla Sia a Ricky Che agli ascoltatori Di Bitcoin Italia Podcast Perché È l'esempio Di una cosa Che ormai succede Molto spesso Sugli store Delle app Soprattutto Su Google Play Store Ma anche Sull'Apple Store Molto meno Questo è il nostro ruolo Educational Cioè ragazzi Attenti Attenti Scam alert C'è una truffa Là fuori Allora 26 novembre Il profilo Twitter ufficiale Di Samurai Wallet Il mio preferito Esatto Ve l'abbiamo raccontato Già In due o tre Episodi Mi pare Un wallet Che ha Un sacco di Funzionalità Orientata Alla privacy Quindi permette Di usare CoinJoin Permette di usare Insomma Vari tipi di mix Tra cui Un ultimissimo Che è stato rilasciato A fine ottobre Mi pare Comunque La notizia È che È stato pubblicato Sul Google Play Store Un'app Che ha tratto In inganno Purtroppo Un migliaio Di persone Si chiamava Samurai Bitcoin Wallet V2.0 E assomigliava La pagina di download In tutto e per tutto Quello ufficiale Tranne che Per una lettera Del nome Dello sviluppatore Quindi Fishing Perfetto Esatto Samurai Develo Invece di Samurai Develo Mancava la Ia La fia di Samurai Tanta gente Un migliaio Di persone Ha scaricato Questo wallet Non si sa L'entità Della Della Truffa Perché In sostanza Quando chiedeva Se voi volevate Importare Il vostro wallet Esistente Con la vostra Seed phrase Ovviamente Questa Seed phrase Veniva comunicata A un server C2 Si chiama Command and Control Che raccoglieva Le chiavi private Di chi Si Di chi Si loggava Di chi Cercava di importare Il suo wallet Su questa applicazione E la cosa È brutta Perché Vuol dire Che sono stati Superati I meccanismi Di difesa Sia automatici Che manuali Del Google Play Store Allora Quando qualcuno Sviluppa Una app C'è prima Una serie Di controlli Euristici Automatici Sul codice Sorgente Della app Quando tu Vuoi Registrarti Come sviluppatore Intanto Devi fare Una procedura KYC Abbastanza Complessa Complessa Dopodiché Quando la superi E Uploadi La prima volta La tua app L'app passa Per una serie Di macchine Virtuali Che la installano E provano a vedere Che cosa fa l'app La installano Cliccano Tutto automaticamente Ogni Cosa che succede Quando ogni evento Diciamo Della app Viene assegnato Un punteggio Di sospetto Ok Quindi operazioni Sospette E vengono Vengono assegnati Dei punteggi Questa è una tecnica Che si chiama Euristica Si usa soprattutto Nello spam Per i virus Quando questo punteggio Supera una certa soglia L'app Viene flaggata E passa Il controllo manuale Quindi c'è Un operatore Che installa L'app E controlla Se c'è qualcosa Che non va Questa app Purtroppo Era in tutto e per tutto Me la sono studiato Un po' In tutto e per tutto Legittima all'inizio Sembrava Non avere funzionalità Malevole In realtà C'era un secondo stadio In un secondo momento Veniva scaricato Dopo l'installazione Quindi dopo Che ne so La prima Dopo il meccanismo Di prova Di controllo Di google Veniva scaricato Con un aggiornamento Esatto Ma perché scusami Il controllo di google Non controlla Gli aggiornamenti Si fa anche quello Ma ci sono Delle tecniche Di incapsulamento Di codice Dentro altro codice Quindi secondo me E adesso Google non ha pubblicato Semplicemente Gli è stata segnalata La app E l'hanno tolta Dallo store Però purtroppo Un migliaio di persone Si è cascato Quindi non so Se ci sono stati Dei furti significativi E quindi niente La segnalazione È questa Purtroppo Anche sugli store Allora su iOS I controlli Sono molto Molto più Severi Più severi Molto di più Devo ammettere Io stesso Tempo fa Ho provato a fare Una app Era legittima In tutto e per tutto Mi ricordo Mi avevano contestato Il fatto che In una icona In una foto Di un logo Che avevo pubblicato C'era qualcosa Che secondo loro Ristigava il gioco D'azzardo Ed era semplicemente Il disegno Di una roulette Per intenderci Come te la guardano Sull'Apple Store Però anche sull'Apple Store Ci sono esempi Di questo tipo Allora Una soluzione Qual è Se volete scaricare Un'App Di un wallet Piuttosto che andare Su aprire lo store E digitare Il nome del wallet Per come ve lo ricordate Che tra i risultati Ci potrebbe essere Qualcosa che A un occhio esperto Si capisce subito Che è finta Ma magari Voi che non siete attenti O non masticate Tanto Non siete tutto il giorno Come me Davanti al computer Qualche cosa potrebbe Trarvi in inganno Allora Un sistema è Per i wallet Semplicemente andare Sul sito ufficiale Dello sviluppatore Sempre Quindi se volete Scaricare Electrum Andate su Electrum.org Se volete scaricare Samurai Wallet Andate su Samurai Wallet.com E da lì C'è il link Legittimo All'App Vera Diciamo Sul Google Store Da lì È impossibile Sì Purtroppo Il Play Store Di Google È un po' Un porcaio Da questo punto di vista C'è tanto È un ecosistema Che purtroppo Dovrebbero davvero Migliorare tantissimo E mi chiedo Come mai Oltretutto Un'azienda Così importante Non senta L'esigenza Di farla Questa cosa Perché comunque Poi viene associato Il tuo logo Viene associato A delle cose Che insomma Non fanno esattamente Reputazione Tra le altre cose Guybrush Oltre quindi A segnalare Mi raccomando Amici Attenzione Samurai È una figata Ma scaricatelo Dal sito Dello sviluppatore Stati attenti In generale Samuraiwallet.com Esatto In generale Possiamo dirlo Guybrush Credo Tutto ciò Che è Relativo A bitcoin E criptovalute In generale Secondo me È meglio Se ve lo scaricate Dal sito Dello sviluppatore Piuttosto che Dal play store Non Scaricate cose A gusto Sul play store Quando ci sono Le vostre Private keys Sul banco Dunque Guybrush Mi fa comodo Questa notizia Perché mi consente Di parlarti Anche di un altro Fatto brutto Di cui però Credo tutti quelli Che ci ascoltano Hanno letto Perché I giornali Hanno Scatenato L'ennesima Campagna Contro il bitcoin Titolando La truffa Dei bitcoin E Si sono Accorti Improvvisamente Tutte Le testate Giornalistiche Di questa Truffazza Guybrush Che in realtà Noi ne avevamo Già parlato In un episodio Del bitcoin Italia podcast Nella prima stagione Quello con Roberto Baggio Ti ricordo Grande Esatto È una cosa Estremamente simile Di quella Che è accaduta Che però È stata portata Davvero Al the next level Da questo Imprenditore E questa azienda Che ha organizzato Appunto Una specie di Anche lì Fishing Promettendo Facili guadagni A chi avrebbe Fatto questo investimento E pubblicizzando Quest'attività Di investimenti Come la preferita Di Flavio Briatore E di Barbara D'Urso Cioè Sostanzialmente Come funziona Tu vedi la pubblicità Su Facebook E Briatore Avrebbe Avrebbe rilasciato Un'intervista All'Adurso Dove Svelava Dei segreti Per arricchirsi Con i bitcoin Briatore Dall'Adurso Hai capito? E non ridere già Perché evidentemente C'è gente Che si fa ingollosire Da queste robe Questo Portava poi A tutta una serie Di siti Anche questi Fatti benissimo Sembravano Dei siti di news Quindi Che davano Credibilità Tutta la faccenda E poi Accedevi finalmente A questo Finto borsino Di investimenti Dove ti chiedevano Di mandare 225 euro Come investimento Iniziale E te li avrebbero Moltiplicati Per un milione Nel giro Di pochissimo Ma era proprio Una roba Molto organizzata Cioè C'erano anche Dei centralinisti Che rispondevano Al numero telefonico Quindi Una truffa In grande stile Con investimenti Con un enorme Capitale speso In pubblicità In facebook E annunci Pubblicitari Su google E ovviamente L'utilizzo Fraudolento Di questi Di questi Volti di vip Che è quello Che poi ha un po' Fatto scoppiare Lo scandalo La cosa che a me Mi diverte È che Tutti questo Tutto quello Che vi ho Descritto Credo che sia Una truffa Abbastanza classica Cioè Quante ne abbiamo viste Noi di questa roba Schema Ponzi Esatto E il titolo Della stampa È La truffa Dei bitcoin Ecco Non la truffa Con i bitcoin Con i bitcoin Hai capito La truffa Dei bitcoin A titoloni Enormi Dappertutto Cioè Siamo Alle solite Siamo Alle solite Siamo Veramente Le solite Oltretutto Guybrush A questo punto Però Facendo un discorso Un po' Più ampio Cioè C'è anche Cazzo Un problema Oggettivamente Di accountability Da parte di facebook E di google Perché Io posso capire Che per esempio Facebook Ci sia tutta la questione Della libertà di parola Su quelli Che sono I tuoi utenti Che postano I fatti loro Ma cazzo Questi sono i tuoi inserzionisti Cioè Non è che Non puoi renderti conto Che uno Dei tuoi Inserzionisti Sta conducendo Una truffa Internazionale Perché oltretutto C'erano i siti Tradotti in 12 lingue E Cioè Tu ti mangi La pubblicità E non controlli Il contenuto Questo è un tema Oggettivamente Grave E da porre Sia per facebook Che per google È centrale Da qualche anno E da Cambridge Analytica In poi In tutti gli stati Imputano Per esempio Facebook Di essere Equivalente Ad un editore E quindi Responsabile Dei contenuti Che Che pubblica Quindi Ma perlomeno Dei contenuti Dei tuoi Inserzionisti Cavolo Cioè È gente Che ti paga Per fare Quella pubblicità Lì Ma se ti ricordi Quando c'è stata La bolla Dei CEO Avevano anche Chiuso i banner Su facebook Loro avevano Deciso Di chiudere Di chiudere Tutto A cazzo Di cane Chiudiamo Tutto Anche quelle Legittime Per dire Dopo Sì Probabilmente Non hanno I soldi Per controllare Tutto Non hanno Le competenze O non lo so Sinceramente Perché corrono Il rischio Così Ma to sta Che comunque Se poi dopo Sul giornale Dicono La truffa Dei bitcoin Quello che Nesce È sempre Che è colpa Del bitcoin E non mai Dei truffatori O di quello Che ha pubblicato La truffa È veramente Un destino Beffardo Tra le altre cose Guybrush ti segnalo Che comunque Questa truffa Si è conclusa Ed è scoppiata In seguito A una indagine Di un giornale Svedese A delle indagini Internazionali E a un articolo Di un giornale Svedese E noi sappiamo Benissimo Chi è questo tipo Qua Che è un noto Truffatore Aveva già Problemi Con Aveva già Avuto problemi Con La giustizia Questo totale Asher Burke Asher Burke Che ha smesso Di truffare la gente Perché nel 2019 È morto In un incidente Di un elicottero Ma no Ma che storia Trista È così È una storia Un po' triste Proprio karma Karma negativo A volte il karma Esiste ragazzi L'universo Da tira E quindi Stiamo sempre Molto attenti Comunque Gran polverone In settimana Ho dovuto rispondere A un sacco di attacchi Gratuiti Su twitter Guarda caso In un momento In cui il prezzo È abbastanza alto Si torna A parlare Di bitcoin E torna La moneta Dei truffatori Esatto Le truffe Dei bitcoin Le truffe Dei bitcoin Allora Amici Cari amici Ascoltatori Posso dirvi Posso dirvi una cosa Che mi viene Dal profondo Il cuoricino In generale Bitcoin a parte Il guadagno Semplice Facile Veloce Milionario Che ti centuplica I tuoi 200 euro Non c'è Non esiste mai E diciamo che Se c'è Difficilmente Lo troverete Nelle pubblicità Di facebook È la lotteria Sì Allora Diciamo che 3 euro Li puoi diventare 10 milioni Giochi alla lotteria Però devi avere Un culo pazzesco Esatto Se vuoi giocare Solo 3 euro Se invece Vuoi giocare 3 milioni Giochi tutti i giorni Alla lotteria Magari Prima o poi Vinci Però Da lì Non ci si muove Tutto il resto O è finto O è una malafede O è incompetenza Non c'è Il guadagno facile Senza lavorare Senza sforzarsi Senza impegnare Mettiamocela via Così almeno Il truffatore Non ha più Un parterra A cui rivolgersi Esatto Perché noi non vogliamo Più guadagnare facile Vogliamo sforzarci E lavorare lentamente Esatto 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 Senti Guybrush Allora Noi abbiamo Una nutrita Sezione di approfondimenti Che sono molto Interessanti Sì E che non voglio Spezzettare Quindi Pur avendolo Già ricordato In apertura di puntata Mentre vi annunciavo La straordinaria Puntata VIP Puntata segreta Magica Puntata segreta Magica Del VIP Show Che riceveranno Tutti coloro Che faranno una donazione A dicembre Ci sono tanti altri modi Per supportare Il Bitcoin Italia Podcast E li trovate Sul sito Bip.show Alla sezione Supportaci Potete ad esempio Usare un link Sponsorizzato Di Amazon Partendo dal nostro link Sponsorizzato Di Amazon Tanti di voi Ragazzi Faranno Dei regali A Natale E visto la situazione Di lockdown Generale Probabilmente Amazon Sarà molto Utilizzato Pertanto Anonima Da Proton Certo Non è che ci dovete dire Per forza Nome Basta avere un email A cui mandarvi La puntata Infatti Noi lì vi manderemo Il link Inoltre Continuerà ad esserci Settimana dopo settimana Nel mecenate Che è il top donor Della settimana E questa settimana Guybrush Ne abbiamo Addirittura Due Due A pari merito Con menzione speciale Per uno dei due Esatto Il primo è Alessandro Casini Grande Ale 5 euro Su Paypal E il secondo Con menzione d'onore Giorgio Giroldi Che ci dona anche lui Più o meno L'equivalente di 5 euro Ma su blockchain Che salutiamo Grazie Giorgio Grazie Alessandro Siete I due mecenate Dell'episodio numero 42 Della seconda stagione Del Bitcoin Italia Podcast A voi va La nostra eterna Gratitudine Espressa Attraverso L'inserimento Del vostro nome Del vostro cognome Nel travertino digitale Delle puntate Dell'episodio Del Bitcoin Italia Podcast Ragazzi È importante Donare lo show Allo show Come hanno fatto Alessandro e Giorgio Perché è quello Che ci mantiene E che ci mantiene Indipendenti Ci sarà Poi L'occasione Questa settimana È stata un po' Timidina Da un punto di vista Di donazioni Ma sai perché Guybrush Perché tutti aspettavano Di donare A dicembre Per ricevere L'episodio VIP Segreto speciale Del Bitcoin Italia Podcast Giusto Giusto La puntata Premium Gold Edition La puntata Wow Ma quanti nomi ha Questa puntata Tutti un po' di nomi Un po' di nomi vari Un po' di nomi eventuali Ragazzi Il Natale Si avvicina Nei link Dell'episodio Del Bitcoin Italia Podcast Troverete Selezionata per voi La fantastica Magliettina Natalizia All I want For Christmas Is Bitcoin Andatela a vedere È uno spettacolo Costa solo 16 euro Su Prime Quindi vi arriva Anche in un attimo Acquistatela Partendo dal link Che trovate Nelle note Dell'episodio Perché così Ci supportate Raghi Se ci sarà Il cenone Su Zoom Quest'anno A maggior ragione Tutti con la maglietta All I want For Christmas Is Bitcoin Tra l'altro so Che i nonni Si stanno adoperando Per fare il classico Regalo La busta Sotto albero Di Bitcoin Una busta Di Satoshi Perché Non potendo vedersi È così ragazzi È così Dunque Guybrush Senti Cominciamo ad addentrare La nostra scaletta Che entra Nella sua fase Più calda Più caliente Un nostro ascoltatore Ci ha scritto Chiedendoci Lumi Sul Wrapped Bitcoin Si Allora È una cosa Di cui Non ho mai parlato Pur conoscendola Da un po' Perché Faccio una premessa Che nel campo Dell'opinione A me Mi sembra un po' Una cazzata Però Ve lo racconto Ve lo racconto Che cos'è Ci dovete mantenere Indipendenti Proprio perché Così Guybrush Può dire Che questa È una cagata Pazzesca Allora Secondo me Wrapped Bitcoin È una cagata E vi spiegherò Perché Vi ricordate Quando vi abbiamo Parlato Di sidechain Tempo Un mesetto fa Vi abbiamo fatto L'esempio Di liquid network Come sidechain In cui C'è una funzionalità Un hop code Nella blockchain Di bitcoin Che permette Di bloccare Un quantitativo Di bitcoin Per poterli Rivendicare Su una cosiddetta Sidechain Quindi una Un blockchain Laterale Diciamo Che ha Tutta un'altra Serie di proprietà Quindi per esempio Può avere Parametri diversi Nella questione Della dimensione Del blocco Nel tempo Minimo Per scrivere Un blocco Di come Vengono Di qual è L'algoritmo Di consenso Quindi su liquid network Per esempio Non è Non è proof of work Ma è semplicemente Un Giro round robin Cioè quindi Una rotazione Tra i vari Nodi Validatori Ecco Sidechain Liquid network Però è una cosa Diciamo Governata Da Dal codice Da uno script Che avviene Se tu decidi Di farlo Quindi se tu decidi Di pegare Di bloccare Dei bitcoin Per utilizzarli Su liquid Hai un indirizzo A cui mandarli Hai un wallet Da installare Fai la tua transazione Di peg in Si dice Quindi blocchi Questi bitcoin Te li ritrovi Sul tuo wallet Rivendicandole E da lì puoi iniziare Ad operare Con le proprietà Di quella sidechain Nel caso Liquid network Puoi fare trading Perché permette Di fare Transazioni più veloci Ok Sidechain Ha una proprietà Poi di avere Anche Una sorta di Fattore Di moltiplicazione Che nel caso Di liquid network È uno a uno Quindi Un bitcoin È un liquid bitcoin Ok Ecco Rapid bitcoin È la stessa cosa Però Diciamo Manuale Cioè Basata Sulla fiducia Nel senso che Qualcuno ha detto E in questo qualcuno Tre aziende In particolare Che hanno creato Una cosiddetta DAO Su ethereum Ecco Questo è un po' Il difetto di ethereum Il fatto che Si tende ad utilizzarlo Sempre troppo spesso Cercando di Ricentralizzare E di Ripercorrere Gli stessi errori Che abbiamo visto Nella finanza classica Questo è un errore Che adesso vi descrivo Un errore proprio Basilare Praticamente Queste tre aziende Hanno deciso di dire Ok Facciamo in modo Che si possa Legare un bitcoin A un token RC20 Su ethereum Ok Quindi io dico Blocco un bitcoin E hai un Wrapped bitcoin Un bitcoin Come si traduce Wrapped? Fasciato Arrotolato 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 Hai un bitcoin Arrotolato Su Ethereum Però Quello che garantisce Questa L'arrotolamento L'arrotolamento Questo Il valore Del tuo Wrapped bitcoin È la fiducia Cioè io mi fido Di te Dell'azienda Dell'azienda Che mi dici Che mi garantisci Che tu Hai l'equivalente In bitcoin Di quello che mi stai vendendo In Wrapped bitcoin Esatto Così come le banche Ci dovrebbero garantire Di essere Sempre solvibili Stessa roba Stessa roba Che abbiamo visto Essere fallita miseramente Negli anni 70 Quando ci siamo guardati in faccia Abbiamo detto Vabbè raga L'oro È quello che è Facciamo che Stampiamo Ma cazzo E l'oro Non conta più niente Sì sì Tutti d'accordo Sì sì Fatto Ecco qua Abbiamo ripercorso In giro di due anni Lo stesso errore Che abbiamo ripercorso In 600 Per quanto riguarda La finanza classica Vabbè Comunque il funzionamento Bene o male È lo stesso Cioè La A parte questo meccanismo Che non è Garantito da uno script Da un codice Da una chiave privata Da Da un hash Ma è garantito Da La garanzia Che ci sono Degli smart contract Poi vediamo Che non è Non è proprio Solo Anche qui ci sono Degli smart contract Però hanno sempre Il difetto Che Ethereum E Bitcoin Non hanno Un metto Un modo di comunicarsi Come invece hanno Bitcoin e Liquid Bitcoin Ok La sidechain di Liquid È pensata proprio Per funzionare In relazione Ad un opcode Degli script Che si vengono eseguiti Su blockchain Di Bitcoin Ethereum e Bitcoin Non hanno ancora Per lo meno adesso Questa opportunità Non è stata ancora pensata C'è chi propone Si auspica Che Ethereum Diventi una sidechain Ufficiale Di Bitcoin Però anche lì È una cosa Che deve decidere La foundation Vitalik si è espresso Positivamente In settimana Ha tweetato Che Bitcoin is cool Siamo caduti Tutti dalla sedia Perché ha tweetato Che Bitcoin è figo E infatti nevi Grazie Vitalik Per avercelo fatto notare Non ce ne eravamo ancora Che Bitcoin è figo Comunque L'idea è Se la sidechain È una cosa Che ti dà Delle proprietà Rispetto alla blockchain Originale Di Bitcoin In cambio Di un pochino Di fiducia Allora Visto che su Ethereum Abbiamo già Questo problema Da anni Cioè il fatto Che è troppo Centralizzata La gestione Facciamo la stessa cosa Facciamolo diventare Una sidechain Di Bitcoin Cediamo un po' Quindi di fiducia Ci fidiamo Di queste tre Di questo consorzio Di questa DAO Cioè Organizzazione Autonoma Decentralizzata Formata da Kyber Network Republic Portugal E BitGo E ci compriamo Dei Dei Rapid Bitcoin Rapid Bitcoin Che possiamo utilizzare Per fare Anche qua Anche in questo caso Si parla sempre Di scambi più veloci Trading La funzionalità È Quella D'altronde Quella che cercano Chi vuole fare Short trading C'è poco da fare Esattamente Perché Fare trading Su blockchain Classica Non si può Perché la latenza È troppo Enorme Enorme E quindi Per fare ordini Nel giro di Un minuto Dieci secondi Non è possibile Non è utilizzabile Non è pensabile Un altro meccanismo Allora però Il problema È che Questo meccanismo Di Rapid Bitcoin È eccessivamente Trusted Cioè È proprio palese Troppa fiducia Troppa fiducia Perché il custodian Il cosiddetto custodian Quello che ti dice Io ho Nelle mie casse 100 bitcoin Quindi posso Coniare 100 rapid bitcoin Ecco Mentre te lo dice Tu ti devi fidare Ok Alla fine Guardi lo smart contract Guardi Puoi vedere tutto Ma alla fine Però è sempre un salto Certo Certo È un atto di fede È un atto di fede Allora È un passo Alcuni Chi lo vede Di buon occhio Dice che è un passo In avanti Nella direzione Dell'interoperabilità Tra le due blockchain Perché Ok è vero Crea possibilità Di scambiarsi Asset Perché tu puoi fare Il passaggio Ipotizziamo Che sia tutto Funzioni tutto Per bene Quindi Queste tre Queste tre aziende Siano in buona fede E non truffino mai E non facciano E non abbiano mai Un exit strategy A un certo punto Quindi Ipotizziamo questo Funziona Che effettivamente Un bitcoin Diventa un rapid bitcoin Sulla blockchain di ethereum Ci fai quello che ci fai Fai Quello che vuoi Quello che vuoi Flash lending Adesso c'è il flash lending Cioè prestiti Flash Nel giro di un secondo Ci fai Finanza decentralizzata Ci fai quello che è Torni al rapid bitcoin E rivendichi Il bitcoin Quindi vuol dire Che sei riuscito A utilizzare Lo strumento Che ti ha messo a disposizione Rapid bitcoin Per far fruttare I tuoi bitcoin Li hai fatti tornare Bitcoin A un certo punto Cosa che non avresti potuto fare Sulla blockchain originale O avresti potuto fare Per esempio Su liquid Vabbè Comunque Effettivamente C'è mercato Perché questa esigenza Esiste Avere una rete Che consenta Lo sviluppo Di applicazioni Decentralizzate Di svariato tipo Abbiamo visto Ad agosto La DeFi La bolla Un intermediario finanziario Esatto A un intermediario terzo Perché se no Siamo appunto a capo Lo so che Non è poi matematico Che questo intermediario terzo Sia un truffatore Ok No certo Però Però L'indipendenza Economica e finanziaria È uno dei cardini Del bitcoin Esatto Quindi Allora Diciamo che Chi segue Quell'ideale Dovrebbe un po' Guardarsi Da questo concetto Chi invece Vuole fare trading Perché è quello Che ama fare Lo fa legittimamente Liberamente Forse dovrebbe Considerarlo Come un'opzione Papabile Esatto Allora Però C'è un però C'è una differenza Sostanziale Perché anche in liquid network Si cede un po' di fiducia Ma la differenza sostanziale È che La parte in cui Si cede fiducia In liquid Non è Nel Diciamo Nel legame Che c'è tra le due valute Uno a uno Quindi Sia bitcoin Che rapid bitcoin Sono in un rapporto Uno a uno Che bitcoin Che liquid bitcoin Sono in un rapporto Uno a uno Però La garanzia di questo rapporto È debole In rapid bitcoin Perché è garantita Dai fondi Che sono Annunciati E garantiti Dall'azienda Ma è forte In liquid bitcoin Perché è garantita Da un opcode Da un algoritmo Da del codice Esatto L'intermediario Lì non ci può fare niente Una cosa che può fare L'intermediario Liquid malevolo È dopo Cioè Sulla questione Della proof of work Del consenso Quello dove c'è Un consorzio Di no Di validatori Che possono Teoricamente Scrivere cose Non Quando la maggior parte Di essi Si unisce Per Creare Transazioni Malevole Per esempio Allora lì Potrebbe essere Potrebbe succedere Qualcosa Qualcosa di Non Onesto Però C'è sempre Un momento In liquid In cui tu puoi Tornare indietro Quindi puoi dire Prelevo e torno a bitcoin Invece In wrap bitcoin Questa cosa Non è garantita Certo Dipende Dall'approvazione Del consorzio Esatto Certo Quindi Guybrush In estrema sostanza Potremmo dire Che all'amico Che ci ha scritto Interessante Wrap bitcoin Cosa ne pensate Gli diciamo Non è roba per noi Prova a guardare Il liquid network E poi però Fai ciò che credi Liberamente Sì sì Assolutamente Io dico che Poi io Sapete che Non sono un etereano Però comunque Apprezzo molto Però c'hai chiamato Tua figlia Quindi Non l'ha chiamata Così Chiamata eterea Io apprezzo molto L'idea di una Di una macchina virtuale Distribuita su blockchain Un'idea molto intelligente Ed è bello Ed è bello Pensare che possa esistere In un tempo tecnico Così breve Ma molto probabilmente Quella figa che vedremo Sarà quella che si farà Tramite l'IT network E l'implementazione Di nuovi opcode Sulla blockchain Originale di bitcoin Quella Allora È figo vedere Smart contract ICO e tutto Però come vedete Come l'ICO Nel 2017 Fino al 2017 E la DeFi Adesso Un pochino Si sgonfino Cioè stiamo sempre parlando Di Non è maturo Guybrush È un entusiasmo Che poi non è giustificato Anche a me piacerebbe Che ci fossero già Tutte queste cose Gli smart contract Che mi permettono Di pagare La bolletta della luce In base a Tutti i dispositivi Eccetera Eccetera Però Per fare in modo Che siano Sicuri Immutabili Decentralizzati E trasparenti Soprattutto decentralizzati Ci vuole tempo È così È così Guybrush Ma ci senti Senti Restando in tema Di centralizzazione In realtà Parliamo un secondo Di miner E parliamo anche Di fee però Perché Ho visto Tante persone Lamentarsi Delle fee alte In questo periodo Tanti ci hanno chiesto Ma cavolo Anche su twitter Ho visto un sacco Di commenti Ho spostato Da Binance Al mio wallet Mi ha ciucciato 5, 6, 7 euro Di commissione C'è molta confusione Da questo punto di vista E quindi Secondo me Il nostro ruolo È anche quello Di fare chiarezza Allora Vorrei ricordare Chi ci ascolta Due elementi Che spesso Vengono sottovalutati Innanzitutto Cercate di capire Che Un conto Sono Le fee Le commissioni On chain Quelle fisiologiche Di bitcoin Un conto Sono le commissioni Di Binance Quando voi Spostate Dal vostro wallet Su un exchange L'exchange Binance Coinbase Vi carica Delle fee Che non sono Le fee Di bitcoin Sono le fee Del business model Dell'exchange L'exchange Pagherà Per voi Le fee Sulla vostra Transazione E lui farà La cresta Di tutto quello Che avanza Quindi Bisogna distinguere Tra le fee Di bitcoin E quelle Degli exchange Un'altra cosa Che la gente Spesso ignora Perché mi rendo Conto che non lo fanno Ragazzi Guardate che Tutti i vostri Wallet Hanno la possibilità Di impostarla La fee Cioè impostare Se volete pagare Una fee alta Perché vi serve Che la vostra Transazione Vada a buon fine Il prima possibile Oppure Se magari state Spostando 5, 10, 15, 20 euro Come nel caso Di una donazione In bitcoin Al bitcoin italia podcast Mettete la fee Più bassa Che c'è Tanto Anche se ci mette 24 ore 36 ore 48 ore A finire Nel blocco Chi se ne frega Non è che si perde Non è che perdete I vostri soldi Nel nulla No Guybrush Anche Electrum Ce l'ha Questa possibilità Perché ci chiedevano Di Electrum Che c'è la transazione Del mecenate Che è così Perché la vedo Ancora non confermata In questo momento C'è una fee Di 12 centesimi Ma è lì Prima o poi Arriva Dalino Quando si sgonf Prima o poi Viene presa C'è Quindi ragazzi L'emee Avete un certo margine Di miglioramento Un certo margine Di operazione Sull'e fee Ricordatevi Di utilizzare bene Gli strumenti Quindi di selezionare Dal vostro wallet La fee giusta A seconda Dell'utilizzo Che state facendo E ciò che volete Da quella transazione Ma Guybrush Restando sul tema Miners E centralizzazione Dei miner Ti volevo raccontare Di una cosa Che ho trovato Molto interessante Studiando In questa settimana Sono capitato Su una vecchia conferenza Di Andrea Santonopoulos Grande Grande Andrea E ormai Io le conferenze Un po' più vecchie Le seguo a spizziche Bocconi Perché comunque So già molto Mi fiondo A sentire La parte finale La session Di domanda e risposta Perché lì Spesso escono Delle cose gustose Nel pubblico C'è qualcuno Che è un pochino Più esperto E quindi Gli fa Le domande Molto giuste E Questa era una conferenza Del 2016 Dove un ragazzo Dal pubblico Gli chiede Se lui vede Con preoccupazione La forte Centralizzazione Del mining In Cina E Andreas Da una risposta Molto interessante Guybrush E fa una profezia E voglio Parlarne con te Perché ricordiamolo Tu non sei Solo un uomo software Ma sei anche Un uomo hardware Quindi Di hardware Si parla Praticamente Andreas Che cosa dice Il suo discorso è questo Lui dice Guardate che La forte concentrazione Del mining In Cina È una fase Ed è fisiologica E naturale Perché Quello che è accaduto In questi dieci Anzi Sei Sei anni Perché lui Lo ricordiamo Parlava nel 2016 Quindi ormai Quattro anni fa E lui diceva In questi sei anni Ciò che è accaduto Con bitcoin È che il mining È diventato Sempre più redditizio Per fare Per sfruttare La redditività Appunto del mining Che cosa è successo Che alcune aziende Produttori di hardware Hanno cominciato A sviluppare Hardware dedicato Sempre più sofisticato E sempre più potente Partendo dagli albori Di bitcoin Quando si minava Con una cpu Poi c'è stato Il grande salto Da cpu A gpu E anche lì Lui diceva Guardate che Non è una banalità C'è C'è un incremento Prestazionale Del 10.000% Passando Da una cpu A una gpu Potente E poi Va a mano Per farvela breve Si arriva Agli ASIC Specializzati E quindi Agli hardware Proprio Ai chip Ha il silicone Studiato Per minare bitcoin E lui Lui diceva Silicio Scusami Giusto Silicone Quello per gonfiare le tette Giusto Giusto Il silicio E In inglese si dice Silicone E' vero E' vero E lui diceva Però attenzione Anche se Anche se Siamo passati All'ASIC Lo sviluppo Delle Degli ASIC E' stato Vorticoso Perché si è passati Nel giro di Due anni Da una tecnologia A 24 nanometri A una tecnologia A 22 nanometri Quindi che cosa E' successo E' successo Che per Alcuni anni Per 3-4 anni C'è stata Una tale Crescita In potenza Che Questo ha creato Centralizzazione Perché solo Alcuni Potevano Permettersi Di avere L'hardware Sempre aggiornato In quel momento Storico Significava Quindi nel 2015 Significava che Dopo 6 mesi Il tuo hardware Era obsoleto Perché era uscita Talmente rapidamente Una Una tecnologia Nuova Che tu Ogni 6 mesi Massimo un anno Dovevi Sborsare delle cifre Enormi Per mantenere Competitiva La tua Mining farm Questo è il motivo Per cui c'è stata Anche centralizzazione Perché avere Una mining farm In Cina Non significa Soltanto Ad avere Energia A basso costo Ma significa Anche Avere Un accesso Diretto Con coloro Che quest'hardware Lo producono E quindi Poter fare Grandi ordini Presso le grandi Aziende Con un Canale Privilegiato Tutto questo Ha creato Una grandissima Centralizzazione E lui diceva Però Attenzione Perché Questa corsa Alla crescita Del mining Una corsa Che di fatto Guybrush Ha polverizzato La legge Di Moore Cioè Ricordiamolo Ai non Meccatronici C'è una legge Che è la legge Di Moore Gordon Moore Era Stato uno Dei fondatori Di Intel E questa legge E questa legge Di Moore È un dogma Informatico Che prevede Che la potenza Di un computer Raddoppi Ogni due anni Il hardware Del mining Ha per tre anni Polverizzato La legge Di Moore Fino ad arrivare Nel 2016 Lui diceva A colpire Un muro Che è quello Del passaggio Della tecnologia A 16 nanometri La tecnologia A 16 nanometri E nanometri È il top Del top Cioè L'hardware ASIC È arrivato Ad avere La stessa tecnologia Che c'è In un iPhone In uno smartphone Molto potente Nei grandi prodotti Di consumer Delle grandi aziende Ha toccato È arrivata Al limite Dello sviluppo Possibile Adesso in poi Dovrà Adeguarsi Alla legge Di Moore E quindi Non ci potrà essere Più questo sviluppo Ma una mining farm Che doveva essere Aggiornata Ogni Sei mesi Adesso Può rimanere Profittevole Per due Barra tre anni Questo Consentirà Diceva lui Al movimento Al panorama Dei miner Di gradualmente Decentralizzarsi Perché ci saranno Sarà più attraente Un business Che prevede Un investimento Iniziale Per poi Avere Un lungo Periodo Di resa E lui Metteva in guardia Lì anche Dall'Halving Del 2016 E diceva Vedrete Che Nei prossimi anni Vivremo Una fase Di graduale Decentralizzazione Del mining Fino ad arrivare A un momento In cui la tecnologia Sarà talmente Evoluta Da poter Vedere Nascere Una rete Decentralizzata Di miner Che preveda Chip Dedicati A microporzioni Di mining Presenti Per esempio In tutti Gli elettrodomestici In tutti I telefonini Quindi un web Decentralizzato Di piccoli miner Questo era Il suo vaticinio E a me Questo discorso Mi ha molto Incuriosito Però Guybrush C'è un piccolo Problema Lui parlava Nel 2016 Siamo nel 2020 Siamo nel 2020 Non c'è stato Un Alving Ce ne sono stati Due Perché lui Diceva Vedrete poi Che col prossimo Alving I ricavi Dei miner Si ridimensioneranno E quindi Ci sarà Una graduale Scrematura A me non sembra Però che sia Andata così Fino ad oggi In realtà Allora Come ci insegnano A noi Elettronici E anche I meccatronici Sicuramente Nel corso Affidabilità E diagnostica Dei sistemi Un sistema Elettronico Rincorre Tutte le sue Componenti Continuamente Per farvi capire L'esempio Più semplice È Se Utilizzate Il computer Per esempio Dagli anni Novanto Dall'inizio Del 2000 Vi sarete Accorti Che Ogni Diciamo Release Del computer Portatilo Fisso Che sia Aveva Uno suo Componente Principale Considerato Il collo Di bottiglia Fino A una certa Un certo Momento Era considerato Il processore Quindi Tutti Si Usciva Il 286 Il 386 Il 486 Il 586 Il Pentium E così via Poi Tutte le varie Serie Intel A un certo Punto Questa cosa Questa influenza Del processore È iniziato A scemare Si è passati Alla ram Bisognava aumentare La ram Per eseguire I programmi Per caricare Nella ram Programmi Sempre più Grandi Così A un certo punto Anche questa cosa È iniziato A calare Si è arrivati All'hard disk Non si poteva più Arrivare Quello A quello Meccanico Ma sono usciti Quelli a stato Solido Quindi Diciamo che Nell'evoluzione Del sistema Elettronico Personal Computer Il componente Che era il collo Di bottiglia Cioè quello Che determinava La velocità Complessiva Del sistema Cambiava Cambia Cambia Completamente Quello a cui Assistiamo In questo momento Per quanto riguarda L'hardware Del mining È come hai detto Tu Si è arrivati A Transistor Con canale Questa misura Di cui tu parli È nanometri È la larghezza Del canale Del transistor Più È stretta Meno Percorso Deve fare L'elettrone Per caricare Un terminale Piuttosto che l'altro E quindi Si può caricarlo Di una frequenza Maggiore Di operazioni Al secondo Il singolo transistor Quindi Andando Andando A rimpicciolire Sempre di più La larghezza Del canale Del transistor C'è però Un effetto Che si va A contrastare Questo Aumento Di velocità Che sono Tutti i vari Capacità parassite O effetti Quantistici Perché più Si rimpicciolisce Più il singolo Elettrone La posizione Del singolo Elettrone Che noi sappiamo Essere non certa Ha influenza Sul comportamento Elettrico Del sistema Quindi Adesso abbiamo In questo momento Sul sito Del principale Produttore Di ASIC Miner Che è bitmain.com Abbiamo il modello S19 Pro Che fa 110 Tera Al secondo Cioè una Imbarazzante Che ha una Larghezza di canale Di Adesso nelle specifiche Non lo vedo Però mi pareva Di leggere 9 o 7 nanometri E diciamo che qui Siamo arrivati Un po' Al limite Cosa succede Che adesso Diventa quindi Come il sistema Elettronico PC Diventa influente Per il sistema Mining Un'altra componente Che è quella Probabilmente Dell'energia Di quanto Consuma Un miner Si cercherà Di farlo Sempre Che consumi Sempre meno Di modo che Si aumenta La profittabilità Dell'oggeggio Che deve stare Acceso 24 ore al giorno Poi probabilmente Ci sarà La dissipazione Di calore Lo spazio Occupato Siccome abbiamo Visto foto Di capannoni Interi Pieni di queste cose Allora magari Si andrà a cercare Di rimpicciolirli Per aumentare La La profittabilità Di questo sistema E Cambiando Il componente Quindi passando Da Un Un Waffer Di silicio Che noi sappiamo Essere Avere il centro Di produzione Mondiale In Asia Cina Taiwan Corea E così Cambiando Cambierà anche La localizzazione Probabilmente Quindi Chi avrà Modo di produrre Energia In maniera Più economica Per esempio Potrebbe essere Una Una deriva Geopolitica Potrebbe essere Che Come abbiamo visto La stagionalità Delle piogge Influisce tanto Sul mining Perché Gli impianti Idroelettrici Del nord Della Cina Producono Più o Meno E vendono A un prezzo Più o meno Alto In base Alla stagione C'è un punto Nel mondo In cui per esempio Il sole L'energia fotovoltaica Non ha questa Stagionalità Ma è costante Tutto l'anno Quindi potrebbe essere Il Medio Oriente Abbiamo già Abbiamo già notizie Di Arabia Saudita E Qatar Che cercano Di accapararsi A quanto pare Le voci di mercato Dicono che I nuovi Miner S19 S19 Pro Sono andati Sold out Nel primo batch Di produzione Perché sono stati Compreti tutti dagli arabi Che molto Che molto Probabilmente Stanno cercando Di costruire Centrali Fotovoltaiche Per alimentare Le loro mining farm Quindi a parità Di hardware Adesso Probabilmente Vincerà la competizione Quindi si sposterà A chi riuscirà Ad avere energia Più Economica E più costante Quindi succederà Secondo te Questa cosa Che diceva Andreas È solo ritardata Assolutamente Sì 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 Sono convinto Perché il sistema Bitcoin In tutte le sue componenti Si è dimostrato Essere un sistema Retrazionato Negativamente Quasi perfetto Cioè Vuol dire che Tutte le sue componenti A un certo punto Si compensano da sole Adesso io non so Se questo è culo O se è Il genio Imperituro Di Satoshi Nakamoto Perché non so Come abbia fatto Poter prevedere Anche lo sviluppo Di queste cose qui Però in realtà Proof of work Alla base Dentro le pieghe Di quei paragrafetti Ha anche questo Ha anche la capacità Di avere Al suo interno La componente energetica La componente Potenza di calcolo La componente dimensione La componente Dissipazione del calore La componente Spazio Perché Poi anche lì La dimensione Del blocco Va Anche Anche le mem Pool Dovranno diventare Più grandi Perché saranno Caricate Di più Transazioni Immagino Utilizzando tutti I bitcoin A un certo punto Aumenterà sempre di più E quindi Secondo me Avendo raggiunto Come dici tu Un piccolo muro Dal punto di vista Della fisica Cioè la larghezza Del canale Del transistor Degli ultimi Miner Probabilmente Il fatto che Per migliorare Questo processo Si dovrà andare A toccare Qualche altra Variabile Sposterà anche Geograficamente La questione Non ne sono sicuro Il 100% No beh certo Tutto mi fa pensare Che si Sono d'accordo Con Antonopoulos Non abbiamo La sfera di cristallo Del resto Senti Guybrush Ti volevo dire Una roba Questa risposta Che tu mi hai Appena dato Secondo me Queste risposte Qui Sono il motivo Principale Per cui La gente Si ascolta 100 episodi Del bitcoin italia podcast Tutti meccatronici Ti volevo ringraziare Tantissimo Perché La tua capacità Di analisi E di dettaglio Ancora dopo Tanto tempo Che ci conosciamo Mi stupisce sempre Grazie Dopo tanti anni Sei sempre Un coglione Un coglione Esattamente Proprio Così Senti ma Che cazzo Di problema c'è Con i bitcoiner E la carne rossa Allora Qua arriva L'argomento Che a me Mi tormenta Da anni Da due anni E che forse Ve ne avevo già parlato Amici Ascoltatori Allegria Praticamente Ci sono dei periodi Sulla twitter Sfera Inerente al mondo Delle criptovalute Che io apro il feed E mi sembra di vedere Mi sembra di essere Una macelleria Tutti postano Bistecche Ma anche crude Carne macinata cruda Con l'uovo crudo E niente Cercando di capire Questo fenomeno Sono venuto a conoscenza Del fatto che Una sezione Un sotto insieme Dei bitcoiners Dei massimalisti Bitcoiners Predica anche Questo regime alimentare Chetogenico Basato sul Chetogenico Chetogenico Mangiare un sacco di carne Allora La chetogenesi È un processo Che avviene Nel fegato Quando non ha Zuccheri E quindi Io lo so Perché anch'io Ho seguito Un regime Chetogenico Per provarlo Per due settimane E funziona effettivamente Ma non ho avuto Questi effetti benefici Che tutti decantano Solo della grande Areofagia Stavo male Nel senso che Devi mangiare solo proteine E dopo due settimane Sono dimagrito Effettivamente Ho perso 5 kg Però non stavo benissimo Mi faceva male un po' Il fegato Insomma Vabbè Comunque la chetogenesi La chetogenesi È il momento In cui il fegato Non ha zuccheri E quindi Produce In questo processo Dei chetoni Che stimolano La metabolizzazione Di altre cellule Quindi di grassi E proteine E quindi Questo causa L'utilizzo delle riserve Dei grassi Per esempio Nella fascia domina E quindi La dieta chetogenica È un modo Per perdere peso In poco tempo Vabbè Ci sono tanti altri modi Di stimolare la chetogenesi Come il digiuno intermittente Questo lo dico Tra virgolette È una cosa che sto facendo Da due mesetti E funziona Ok Però La parte interessante È che Questo Sotto insieme Dei bitcoiner Pubblicizza Sponsorizza Si vanta Fa foto Di tutte le cazzo Di bistecche Che mangia E mi sono chiesto Ma che legame c'è Ma perché Ma che legame c'è Che legame c'è Non ho trovato Una risposta Fino a Una fantastica Intervista Su Coindesk Di Leif Kuen Leif Kuen Insomma Una che scrive Su Coindesk Leif Kuen Che scrive su Coindesk Che intervista Seif Ederna Mous Che voi vi ricordate Che ve ne abbiamo parlato Quando abbiamo Abbiamo raccontato La scuola austriaca La scuola economica austriaca Certo Famoso episodio Che era piaciuto Episodio controverso Seif Ederna Mous È diventato L'alfiere della bistecca Della tartarica L'alfiere della bistecca Bellissimo Sì Però non lo so Allora Praticamente Lui l'ha intervista E ci sono Se tu guardi Nell'articolo Ci sono anche Delle derive Del tipo C'è uno Che pubblica Una foto Di carne macinata Uovo crudo Miele E panna E se lo mangia così Che schifo E uno sotto Gli risponde Fai cagare Gli avrà scritto Sono stato macellaio Per un sacco di tempo In un top tire store In un negozio Di alta fascia Non mangiare Carne cruda Non mangiare carne cruda Vabbè Comunque Il concetto Che ho Che ho coperto Io vi pubblicherò Il link Nelle notte della puntata Ma quello che ho capito È questo Questo sotto insieme Di bitcoiner Vive il bitcoin Come una Sorta di Rivalsa In questo In quello che loro Chiamano La La Quello che sta accadendo Secondo loro Cioè con le banche centrali Che cercano Di stampare denaro Cercano di Reinventare Il feudalismo Il feudalesimo Impedendo il collasso Del capitalismo In sostanza Ok Quindi Spesso parlano Di questa Bitcoin citadel Non so se ti è mai Incapitato Certo La bitcoin citadel Ci sono anche Delle fotografiche Bellissime Della bitcoin citadel Sarebbero queste Piccole città Sullo stile Delle città Medioevali Quindi con le mura E il palazzo Al centro In cui tutti noi Bitcoiners Dovremmo andare a vivere A un certo punto Piero di figa Sarà Nella città Del guarda E la carne Mangiare le bistecche È una parte importantissima Di questo Come dire Autarchia Nel quale Tutti dovremmo Evitare Il cibo processato Perché sono carboidrati Poveri Diciamo Non solo la banca centrale Stampa denaro E quindi ci toglie Il potere Ma ci dà da mangiare La merda Esattamente E quindi Mangiate la carne Mangiate un sacco Di bistecche Ci sono un sacco Di cene bitcoin Di stick dinner Tra bitcoiners Organizzate ormai Mensilmente Questo è pre-covid Naturalmente Chiaro 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 Cioè è banalissimo Status symbol Cioè io questo leggo È banalissimo Status symbol Allora però aspetta Ci sono Alla fine dell'intervista Ci sono fortunatamente Un sacco di Bitcoiner vegani Tra cui anche Scontro titanico Hard fork Tra i bitcoiner vegani Esatto Hard fork alimentare Che tosnaus Hard fork alimentare Praticamente L'aceo di Lightning Labs Elizabeth Stark Grande Grande Che ricordiamo essere Parente diretta Di Tony Stark Iron Man Non solo di Tony Stark Ma anche degli Stark King in the North King in the North Risponde Telegrafica Bitcoin doesn't care What you eat A bitcoin non gliene frega niente Di quello che mangi Direi che mi sembra Una verità inconfutabile Allora Io lo trovo un po' ridicolo Legare Il concetto Di A me Sai cosa mi ricorda E l'avevo già detta Anche questa Mi ricorda un po' Come quando Usci Così parlò Zaratustra Inizio novecento E siccome Nessuno ci aveva capito Un cazzo Tutti Lo Decantavano Come il libro Manifesto Della propria ideologia E quindi è finito A essere Il manifesto Di Nazisti Fascisti Anarchisti Comunisti Liberali Tutti Era il manifesto Di tutti Ma avete veramente Letto lo stesso libro? Esatto Perché secondo me Ecco io ci vedo Una deriva di questo Secondo me Satoshi Nakamoto Col suo white paper Ha creato più o meno Un effetto simile Cioè abbiamo letto Tutti Il Tutti Il White paper E ognuno ci vede Siccome è difficile Da capire a fondo E probabilmente Tante cose Ancora non le abbiamo capite A fondo Ma certo Scusami se ti interrompo Però c'è di più C'è anche questo Questa Volontà Da parte di Satoshi Nakamoto Di lasciare Chiaramente Degli indizi Che alludono A una finalità Politica Di questo strumento No? Chancellor On the bricks Eccetera 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 Senza però mai esplicitarlo Senza mai spiegarlo Qui veramente Quale fosse Secondo lui Il fine politico E quindi Si è aperta la gara Alle speculazioni Più avventurose Tra cui Le bistecche Tra cui Le bistecche Allora Alla fine di ogni libro Lo Zaratustra Si divide in quattro libri Alla fine di ogni libro Zaratustra dice sempre Abbandonate Zaratustra Zaratustra non importa Il messaggio Quello che importa Secondo me È Satoshi Solo con il fatto Di chiamarsi Satoshi Nakamoto Ci dice questo Non fatelo diventare Un culto Di qualsiasi cosa Né di me Né di me Che sono Satoshi Nakamoto Quindi non sono nessuno Il messaggio è questo Madonna ragazzi Quindi Bitcoin Non gli interessa Cosa mangiare Sono d'accordissimo Sono d'accordissimo Ragazzi Ma io mi chiedo Io sono bullish Stasera Sarà la puntata Decento Dove lo trovate Un altro podcast Che Part Che Che passa Dai Nanometri A così Parlo Zaratustra Così Con scioltezza Con nonchalance Guybrush Da nessuna parte Con birra Da nessuna parte Siamo veramente Due chetoni Senti Guybrush Ricordiamo Che Il Bitcoin Italia Podcast Non parla di prezzo Non consiglia investimenti Noi spieghiamo la tecnologia Perché è la tecnologia Quello che conta Il prezzo è una conseguenza Questa idea avrà successo Se saprà essere rivoluzionaria Non se saprà costare molto Investite in Bitcoin Solo dopo esservi informati E fatelo liberamente Non credete che vi promette Facili guadagni Potete scrivere al nostro show Sull'email Show Chiocciola Bip Punto Show Oppure Guybrush Ci possono anche Contattare direttamente Sì Come stanno facendo Numerosi In questo periodo Anche grazie a te Che hai preso un po' in mano Il nostro account Twitter Quindi ci potete scrivere Al nostro account ufficiale Bitcoin Italia Podcast Bip Underscore Show Oppure se ci menzionate O ci scrivete privatamente Ai nostri handle privati Sempre su Twitter Il mio è Guybrushino E quello di Ricky È Ricky6IXX Senti Guybrush Siamo in conclusione Di puntata Ricordiamo Ai nostri amici Che Ogni donazione Che riceveremo Da oggi in avanti Vi darà Il privilegio Di ascoltare La puntata Vip Fantastica Futuristica Gnagna Che Vi manderemo A Natale Ricordiamoci Anche Anzi Ricordatevi Che Le feste Non sono feste Se non le celebrate Con la maglietta All I want For Christmas Is Bitcoin In puro stile Natalizio Che potete acquistare Dal link sponsorizzato Che troverete Nell'episodio Di anche Questo episodio Del Bitcoin Italia Podcast Che è il 42 Esattamente Della seconda stagione E ricordiamo Anche A tutti quanti Una roba Guybrush Sì Lo sai dove vanno I miei chetoni? No Non so dove vanno I miei chetoni Lo vuoi sapere Dove vanno I miei chetoni? Voglio proprio Saperlo Sono curiosissimo Quando mi girano I chetoni Ragazzi Vanno To The Moon Ciao 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 teniamo la tua dai non è possibile sei pronto? la rifacciamo dai una seconda take anche i migliori artisti se la meritano allora allora aspetta allora Bibi 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 Bip Show